Ecco dottoressa, questo è un fungo record, un esemplare che insomma difficilmente si vede? Sì, difficilmente si vede, però non si può fare una determinazione di un fungo da una fotografia del cellulare. I funghi vengono determinati nel suo insieme, cioè nel gambo e con il fungo intero. Sono già 80 le consulenze offerte dall'ispettorato micologico di Arezzo. E' sempre consigliabile far valutare i funghi, il pericolo è dietro l'angolo come queste due specie apparentemente commestibili consegnate di recente presso l'ispettorato. Amanita vittadini, che comunque dà disturbi gastrointestinali, è un fungo tossico e quindi si sconsiglia assolutamente chi non conosce questi funghi comunque sempre di venire. E le altre sono dei funghi bianchi, delle clitoscibe, che anche queste sono funghi che danno disturbi gastrointestinali. Sono funghi tossici, si possono scambiare con il fungo, con il prataiolo. Come devono essere consegnati, in quali condizioni i funghi all'ispettorato micologico? Allora, come ho detto prima, i funghi devono essere consegnati integri, interi, non puliti, non già pronti per essere consumati. E la cosa principale è non portare solo un fungo, ma il raccolto deve essere portato tutto. Grazie.